Bene amici e bentornati al nostro TG IMSS e se c'è una cosa certa oltre le tasse e la morte è che il 2021 dal punto di vista occupazionale sarà una brutta bruttissima gatta da pelare. Vediamo quindi in un solo video tutti i bonus, gli incentivi all'assunzione per questo nuovo anno e mi raccomando rimanete sintonizzati fino alla fine perché l'istituto ci omaggia di un nuovo super servizio. IMSS risolve 24 ore su 24. Io sono MrLul, sigla ma mi raccomando lasciate un bel like per sostenere il video e il canale e iscrivetevi con la campanella per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. Partiamo! Quindi nel 2021 ritroviamo tutti quegli incentivi strutturali permanenti per i quali non sono necessarie proroghe come il bonus assunzione donne e over 50 che però è stato leggermente migliorato, il bonus assunzione per chi è percettore di reddito di cittadinanza oppure naspi o anche i tradizionali sconti per chi assume con contratto di apprendistato. Per quanto riguarda invece le novità del 2021 partiamo con il bonus assunzione under 36 previsto per tutto il prossimo biennio. Si tratta di uno sconto del 100% dei contributi previdenziali IMSS da portare in dote ai datori di lavoro che vi assumono a tempo indeterminato o vi trasformino il contratto da contratto a termine a indeterminato. Durata massima 36 mesi che possono diventare 48 però c'è una vaccata pazzesca. Non dovrete mai aver sottoscritto nei vostri 35 anni e 364 giorni di vita precedente alcun contratto di lavoro a tempo indeterminato per poter beneficiare appunto di questo bonus. Pessimo! Poi incentivo assunzione studenti esonero sempre del 100% dei contributi previdenziali da portare in dote ai datori di lavoro del settore privato che vi assumano sempre a tempo indeterminato entro 6 mesi dall'acquisizione del titolo di studio e solo se, altra vaccata, avrete svolto presso quello stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro oppure periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. E ancora importantissimo bonus assunzione donne e over 50. Se per gli over 50 nulla cambia con l'esonero contributivo sempre del 50% come per gli anni precedenti la novità 2021 è per le donne dove lo sconto passa su tutto il territorio nazionale al 100%. Infine continua anche la decontribuzione sud, sconto del 30% dei contributi sempre IMSS da applicare ai rapporti di lavoro dipendente fino al 2029. Insomma, un velo di amarezza in realtà perché se si vogliono rilanciare le assunzioni stabili e l'inclusione di giovani e donne, insomma, bisogna fare molto molto di più, speriamo, nel nuovo esecutivo. Prima di chiudere però vi do una buona notizia. Infatti nel solco del progetto IMSS risolve, l'istituto ha lanciato un nuovo servizio vocale automatico per prenotare un appuntamento risolutivo, si spera appunto, presso gli sportelli di sede. Quindi da pochi giorni, 24 ore su 24, potrete chiamare il numero 803-164 oppure 06-164-164 se chiamate da cellulare. In questo momento mi sento molto televendita. Seguirete poi la voce o spirito guida atridico o telefonico appunto per prenotare questo appuntamento e risolvere gli innumerevoli guai previdenziali di questi mesi bui. Guardate che per sistemare certe problematiche l'unica è proprio andare in sede a parlare con un responsabile vero, non con il contact center che è capace di raccontarvi la qualunque tipicamente sbagliata. Detto questo, io come al solito, beh, vi saluto, vi ringrazio, ci vediamo in un prossimo video, in una prossima live, mi raccomando, lasciate un bel like per sostenere il video del canale e iscrivetevi con la campanella per non perdere nessuno dei prossimi aggiornamenti. Alla prossima, grazie da Mr. Lul. Grazie a tutti.